Allora ragazzi, sotto ogni post o video di Jon Jones sono partite discussioni immense dove la gente litiga sostenendo che Jones non sia ancora il Goat e che sia ancora paragonabile agli altri fighter. Adesso andiamo a vedere perché questo non è più così. Innanzitutto, come si decreta un Goat? In base a tre fattori chiave. Numeri, qualità degli avversari battuti e impatto sociale che ha avuto, positivo o negativo che sia. Quindi, considerando questo, direi che i paragoni si possono fare con GSP, con Khabib e con al massimo Fedor Emilia-Nenco. Se facciamo il paragone con GSP, entrambi hanno conquistato due categorie diverse, entrambi dopo una lunga pausa ribadendo chi fosse più forte, ma Jones ha comunque più vittorie complessive e soprattutto non è mai stato battuto concettualmente. GSP, invece, lo abbiamo visto chiudere gli occhi contro Matt Serra, che indubbiamente ha avuto anche grandissimo culo, ma sta di fatto che l'ha battuto, mentre il limite di Jones non l'abbiamo ancora visto. Prendiamo invece Khabib, ad esempio. A rimbattibilità, probabilmente Khabib è un filino sopra perché può vantare maggiore impenetrabilità data dal suo stile efficace. Ma Jones, d'altro canto, è molto più versatile perché riesce a vincere pure con un alluce quasi staccato dal piede o una spalla dislocata. Inoltre, dobbiamo anche vedere il peso di questa imbattibilità e il prestigio soprattutto. E qui per la classifica di Goat, Khabib è messo malissimo perché ha combattuto appena 13 match in UFC con solo le due difese titolate, mentre Johnny Goat può arrivare a 16 contando solo i match titolati. E se consideriamo poi il calibro degli avversari, allora non c'è proprio partita perché basta prendere il prime di Jones per eclistare l'intero regno di Khabib. Tuttavia, diciamo che Khabib ha dalla sua un importante impatto sociale in Russia e nel mondo islamico, che ciò magari può contrastare un po' il gap, ma sicuro a livello sportivo Jones lo supera concettualmente per la classifica di Goat. Prendiamo poi come ultimo esempio Fedor Emelianenko, l'unico che avrebbe potuto realmente scontrarsi con Jones anche fisicamente. A numeri e qualità degli avversari se la giocano molto bene, anche se Jon Jones ha un qualche cosina in più di prestigio, perché comunque il fighter russo ha mantenuto lo status di campione per 10 anni e in quel lasso di tempo ha collezionato scalpi leggendari. Tuttavia, sul piano del concetto di imbattibilità ha perso davvero molto negli ultimi anni, più di tutti con Ryan Bader, che ha incontrato direttamente Jones, perdendo malamente con quest'ultimo e invece stravincendo contro il russo due volte, facendogli chiudere anche la carriera con una sconfitta a quota a 7 sconfitte totali. Se andiamo a prendere lo scontro fisico vero e proprio, diciamo che Fedor sullo striking è tipo un Francis Gannou, un po' meno potente e veloce, ma con il sambo come arte lottatoria che quindi lo rende completo, e sicuramente sarebbe stato interessante vederlo contrapposto a Jones e, pensato a una manciata di anni fa, era pure fattibile. Ma anche se fosse, vedrei comunque vincere Jones, che rappresenta un'evoluzione generazionale rispetto allo stile di Fedor Emilianenko. Pertanto, anche sull'ottagono vero e proprio, secondo me, non ci sarebbe stata storia. A conti fatti, quindi, Jon Jones ha 27 vittorie e una sconfitta che nessuno considera tale, facendolo rimanere quindi concettualmente imbattuto. Ha battuto da ruchi i veterani della vecchia generazione come Shogun, Rashad, Rampage Jackson, Maschida, eccetera, eccetera. Ha battuto i più forti della sua generazione, come DC, Texera, Sampiux, eccetera, eccetera. Poi è tornato da veterano battendo i fighter di nuova generazione nella sua categoria. Ed infine, dopo tre anni fermo sul trono, sale nei massimi e si prende pure la classe regina. E considerando che non solo potrebbe combattere e vincere fisicamente contro tutti gli altri Goat, ma che anche di tutti loro è quello con lo stile più versatile e spettacolare e che più di tutti loro ha dovuto anche combattere contro se stesso, qua non credo che si tratti più di ribattere su quanto Jones sia più Goat degli altri, ma bensì per quanto tempo potrà restare tale, perché più forti di lui, dai tempi dell'invenzione della telecamera, in uno scontro di uomini che si battono a mani nude, finora non se ne sono mai visti.